e bella a tutti ragazzi benvenuto in questo nuovo corto video questo video sarà soltanto per dire che dalla prossima settimana inizieremo a fare 6 video alla settimana e credo che non lo farò il lunedì quindi da martedì fino a domenica ci saranno tutti i video allora sabato e domenica porterò due episodi della playthrough di un gioco sull'emulatore per esempio ora sto giocando a crash bandicoot e super mario il martedì faremo un video di roblox mercoledì un video di minecraft giovedì non lo so fatemi pensare giovedì possiamo fare ok giovedì e venerdì invece possiamo ok giovedì possiamo fare un playthrough di un gioco che si prende la play store e venerdì semplicemente faremo vedere un gioco ma non ci faremo un playthrough semplicemente per far vedere il gioco se vi piace così lo potete installare un po come fa fa vj quindi per questo video è tutto se vi piace i rari ditemi a che ora dovrei pubblicarli io stavo pensando tra le due e le cinque quindi si stavo dicendo per questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like se potete se volete vedere quei play through iscrivetevi e per questo video è tutto ciao ciao